Tsipras non possiamo assolutamente appoggiarlo, devo dire che quella è una scelta che non condividiamo perché non condividiamo che quei parlamentari a cui io faccio auguri di buon successo a quella lista poi andranno a conferire in un gruppo dove c'è il Partito Comunista Ceco, il Partito Comunista Bulgaro. Noi pensiamo un po' al futuro anche perché alcune politiche della lista Tsipras o di Tsipras in Grecia non sono perfettamente ambientalista perché sono pro carbone, pro industrie petrolifere e questo francamente non ci convince, ma faccio tanti auguri, ognuno ovviamente in questo momento deve pensare di portare a casa un risultato, noi vogliamo dire con molta franchezza gli italiani che questo è l'unico voto ecologista.